E' certamente un'opera fondamentale per questo museo, per le dimensioni banalmente, ma anche per la storia che c'è dietro, per il fatto che il Basari la descrive nei suoi scritti e poi per la bellezza, per questa sua ricchezza di composizione che evoca i banchetti del tempo, chiaramente il tema è biblico, il convito di essere al suo ero, ma noi vediamo davanti a noi svolgersi un convito, un banchetto dell'epoca del Basari. Eccezionale per dimensioni, per quantità di figure e per l'elevata qualità artistica, il convito per le nozze di essere al suo ero può essere considerata la più importante opera su tavola del Basari, anche perché è ritenuta completamente autografa e adesso è arrivata in città. Il Museo Nazionale d'Arte Medivale e Moderna ospita infatti fino al 2 febbraio 2025 la mostra Alcuna cosa fuor dall'uso comune. La mostra presenterà dei disegni preparatori per la tavola, preparatori e anche delle citazioni da altri disegni sempre di Basari. Poi ci saranno dei manufatti che sono stati proprio rintracciati nei depositi per dare delle suggestioni della tavola e poi dei documenti che contestualizzano ancora meglio l'opera all'interno della carriera dell'artista. Consiglio tutti a venirla a vedere questa tela perché è gigantesca. Noi abbiamo operato per migliorare l'illuminazione e quindi ora la si può godere in tutta la sua straordinaria bellezza. L'evento si inserisce nell'ambito di Arezzo, la città del Basari, il sistema di esposizioni, eventi e celebrazioni che vuol rendere omaggio al maestro Aretino nei 450 anni dalla morte. Siamo arrivati ad un'ulteriore tappa, la prossima sarà l'archivio di Stato e quindi tutte le istituzioni cittadine hanno partecipato a questa celebrazione vasariana con i loro capolavori perché così si devono definire in preparazione della mostra che si inaugurerà il 30 ottobre alla Galleria d'Arte Moderna.